Ciao amici, questo è un invito che rivolgo a voi che sarete a Milano lunedì 6 maggio. Alle ore 19, infatti, presso la casa editrice Anima Edizioni, presento il mio libro AAA Cercasi Guru Disperatamente, che è questa creaturina qui. Sottotitolo, come salvarsi l'anima, i portafogli e le mutande, il manuale pratico di sopravvivenza spirituale. Parleremo di come è nato questo libro, parleremo anche della spiritualità e parleremo dei guru e di tante cose che girano all'interno di questo mondo. L'appuntamento è per le ore 19, l'indirizzo è in Corso Vercelli 56, che è una zona facilmente raggiungibile da autobus, metro e anche dal tram numero 16. Io spero che abbiate voglia di venirmi a trovare e di conoscere più da vicino questa avventura editoriale che ho intrapreso, quindi vi aspetto. Trovate tutti i dettagli nel testo che metto sotto il video. Se avete domande o curiosità da porgere, cogliete l'occasione e venite a trovarmi dal vivo e co-creeremo insieme una serata dalle ore 19 fino alle ore 20 e 30 per parlare del mondo della spiritualità e anche dei fraintendimenti che accadono in questo mondo e come usare al meglio le nostre risorse interiori. Io vi aspetto, un bacio e buona serata. Grazie!